Balla! 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 14-11! Smetti di alzare le palle che ti farei non te! Si chiama tu apri gli hai dato una palla spinta a caso, non ci hai fatto staccare! E guardate dall'altra parte prima di iniziare a fare la chiamata! Vedi che vanno tutti e quattro in linea con il difensore già in linea! Il gioco si muove un'ora prima di andare incappato per te! Non si avanza mai contro tutti! Mai! 15-11! Balla! Balla! Out! 6! 15-12! Balla! 16-12! Non ne ho neppure! Devi alzare bene buttandosi in terra! Balla! Vieni! Apre! 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 16-13! Dovrei poter notare una cosa che nessuno ti crede mai! Guarda sempre gli allenamenti! È vero! Sempre ci guarda gli allenamenti! È vero! Sì! Ma questi scemi che giocano nella galettina! Ahahahah! E' buono! Sì! 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 Molto! Lo avevo! Un.. Sì! Vieni! Pia questo! Raffa! Cazzo! Palla 3 3 Non fai palleggi 18-13 Smetti Non fai Prendi Poi entri in alzato 3 Ancora 3 Viglia 18-19-13 20-13 3 21-13 Troppo basse Pippo 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 Questa è una merda Eh si la faccia è quella di un coglione E' giusto Che faccia Meno male che abbiamo visto questa azione 10-11 Guarda 10-11 Guarda 9 3 Bello Non usare mai le gambe Importante Liglia Liglia Non si dà fotocampe 1 Verso la rete Devo prenderla di questo 11-11 Pari Quanto è? Palla Palla Non si dà fotocampe Non si dà fotocampe Non si dà fotocampe Scarpi Non si dà fotocampe 12-12 12-12 15-12 15-12 15-12 17-12 16-12 17-12 16-14 17-12 16-14 17-14 17-14 Ehi! Ehi! Che stronzo io! Che stronzo io! Ma questo è vero molto bene! Palla! Dai! Sotto 14! Lo abbiamo superato! Ehi! Ma sono fortissimi! Sotto 15! Sotto 15! La prima è stata lì! Non è vero! Hai capito? C'è, se è venuta da là... Stai mandati il bambino! Stai mandati il bambino! Stai mandati il bambino! Stai mandati il bambino! 18-16! E facciamo il bambino! 19-16! Lo vi faccio! Zag lo vedo! 3-16! 2-16! 2-18! 3-16! E' qua! 20-18 20-19 20 pari ancora 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 un po' un po' bello bravo occhio 20-21 un po' 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 palleggia e poi digli dove attaccare non fare cosa accade 12-13 12-14 questo è solo disattenzione andiamo grazie 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 Grazie. 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 Sì, c'è un cazzo attacco così, metti da fondo campo. Sì, c'è un cazzo attacco. Sì, 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 cazzo attacco. Cazzo attacco. Sì, 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 cazzo attacco. Cazzo attacco. Cazzo attacco. Sì, cazzo attacco. Sì, cazzo attacco. Sì, cazzo attacco. Sì, cazzo attacco. non c'è nessuno ma in 12 volte il possibile ti metti questa attività di alzante e ti fa tozzo 20-18 18-20 non fare col piano in contro giochi è quello che si aspetta in casa un gioco per uscire con il campo non ce n'è l'altro Dragon Dragon con l'attore difficile da Dragon sicuramente è un pezzo di merda si va chiamata bravo Ale che hai fatto questo punto per noi Grazie